buonasera a tutti ben trovati con fabio sinatti e andiamo a commentare il 20 la ventesima edizione delle memorial gabriele annetti un trail che va da policiano lignano e ritorno purtroppo funestato da qualche sabotaggio che è avvenuto lungo il percorso e quindi ha creato qualche difficoltà da un punto di vista organizzativo però tutto sommato diciamo la manifestazione si è completata anche se con qualche distinguo soprattutto diciamo nella gara diciamo della 21 della 12 chilometri purtroppo c'è stato questa questo cambio diciamo di direzione da parte di un paio diciamo di cartelli che ha pregiudicato un po diciamo l'ordine d'arrivo della competizione purtroppo diciamo queste cose qui anche se la presenza massiccia dei partecipanti che hanno preso parte a questa competizione ci davano una bella speranza un bel risultato da un punto di vista proprio anche tecnico organizzativo e soprattutto ricordo diciamo di gabriele annetti in maniera sufficientemente diciamo anche piacevole peccato per questo proprio perché c'è stato questa questa diciamo anomalia nel nel tracciato che io direi non sia neanche dovuta la diciamo alla monemissione del percorso da parte degli atleti quindi a volte si è pensato che gli atleti abbiano fatto qualcosa del genere non penso sicuramente qualcuno che ha voluto fare una uno scherzo di pessimo gusto nei confronti della manifestazione stessa qui intanto vediamo poi i protagonisti della competizione in una delle fasi della corsa percato anche lì la nebbia un po diciamo perso la spettacolarità di questo di questo diciamo tracciato che per molti versi è stato apprezzato da da tantissimi diciamo partecipanti fra l'altro per così c'è bellissimo molto vario al tempo stesso anche praticabile anche se in alcuni tratti come vedete qui fanno anche di passo addirittura piegando il busto in avanti però ecco quindi questa alternanza diciamo anche tra l'asfalto e le diciamo e le terreno anche sterrato hanno dato diciamo una un'ampia selezione al percorso fra l'altro la prima parte del tracciato una saliscendi che metteva un po dura prova ai partecipanti però anche da un punto di vista proprio della spettacolarità delle del tracciato aveva dato anche una certa diciamo briosità al percorso poi dopo il secondo tratto sarebbe stato quello consueto e quindi diciamo che l'arrivo poi all'ignano sarebbe stata una spettacolarità visto che lì il sole era presente qui vedete poi una nebbia abbastanza fastidiosa che forse ha un pochino anche danneggiato la come dicevamo la visibilità ma soprattutto diciamo l'immagine della val di chiana che poteva essere veramente una cosa gradevole tornando un pochino al fattaccio fattaccio che poi è stato una diciamo un episodio che sicuramente ha pregiudicato per molti versi un po la mattinata da un punto di vista anche proprio dell'organizzazione l'amarezza che era pervasa un po nei confronti diciamo degli organizzatori ma in particolare direi proprio nelle confronti e rispetto di Giuseppe Annetti il padre di Gabriele che si era adoperato in tutti i modi per cercare di realizzare un evento di un ricordo diciamo del figlio in un certo modo tra le altre cose proprio per non danneggiare il tracciato quindi segnalarlo da un punto di vista proprio anche di vernici che potevano essere diciamo anche da un punto di vista dell'ecologia poco attinenti ecco avevamo predisposto diciamo cartellonistica e poi anche del nastro posizionato nel tracciato questo per per dare visibilità era quasi impossibile sbagliare percorso quindi però purtroppo come avviene anche nelle migliori famiglie c'è sempre qualcuno che non vuole bene a queste a queste iniziative e quindi hanno pensato bene di farlo appositamente perché il punto dove era incriminato dove è successo il fattaccio bisognava che uno ci andasse appositamente quindi non era una diciamo un luogo dove si poteva arrivare così facilmente quindi uno è andato e quindi il dolo è stato proprio premeditato direi fra virgolette peccato per questa per questa cosa anche se poi diciamo che per la gara della 22 fatta salve per Daniele Brezzi che ovviamente è arrivata al traguardo con una certa astizia però lo capisco anche per quel motivo lì però per il resto diciamo che a grandi linee al 90 per cento ha rispettato un po' l'andamento diciamo della competizione tornando un po' a questo a questo trail che vedete qui nei tratti un po' alternando abbiamo alternato un po' le immagini nel primo tratto che porta verso il castello di Policiano in questo diciamo viottolo abbastanza diciamo impegnativo che vediamo la Cenicenziana che ovviamente doveva lottare per quanto riguardava la vittoria della 10 km con le altre componenti diciamo una buona guerrita presenza diciamo di atleti dal punto di vista anche del settore femminile e poi soprattutto diciamo la presenza anche da fuori provincia che hanno dato lustro a questa competizione fra l'altro inserita nell'ambito della saga della pappardella quindi per molti versi molti hanno utilizzato la manifestazione sportiva per poi rimanere anche da un punto di vista culinario presenti alla alla gara ecco dobbiamo anche sottolineare anche un altro aspetto non da poco diciamo è stata una delle poche manifestazioni che si disputano diciamo anche nella provincia di Arezzo che non ha fatto pagare iscrizioni almeno fino a dieci giorni prima della gara quindi questo per far capire che non c'era neanche lo scopo delle di reperire fondi appositamente il premio era adeguatamente un po per tutti un premio di partecipazione importante che poteva essere un articolo sportivo di anche di diciamo di marca pertanto diciamo lo spirito che accomunava questa manifestazione è quella proprio di avere una buona partecipazione al tempo stesso anche la qualità della tecnica presente alla competizione stessa qui intanto vediamo proprio nel tratto del castello un tratto che un piccolo tratto diciamo di asfalto che poi dopo immetteva in una parte diciamo ancora sterrata dentro il bosco per poi arrivare al punto incriminato che ovviamente ha pregiudicato per molti versi soprattutto come dicevamo la gara della 10 chilometri dove effettivamente i primi concorrenti erano partiti in pola grande compresi alcuni ovviamente protagonisti della 22 come brezzi come poteva essere e invece anche donnini come potevano essere anche altri insomma quindi questo diciamo è stata un po la parte dolente della manifestazione anche se dicevamo una diciamo una presenza di quasi 400 atleti al via ha dato lustro alla ventesima edizione del memoria gabrile annetti un memoria che ovviamente rappresentava anche l'ultima prova delle grand prix aveva un punteggio triplo addirittura quindi ovviamente poteva essere determinante per la classifica finale addirittura diciamo dopo la diciamo l'errore che c'era c'era stato eravamo indotti quasi ad annullare la competizione poi ovviamente una classifica comunque sia c'è stata e quindi siamo stati nostro malgrado diciamo non costretti ma insomma siamo stati indotti a realizzare ugualmente una premiazione anche se come ripeto per molti versi non era quella forse auspicata forse quella reale però alla fine sono arrivati perché alcuni effettivamente non hanno sbagliato percorso altri l'hanno fatto e primi forse hanno sbagliato il percorso quelli che hanno più dietro poi dopo sono riusciti un pochino a riprendere la strada quella quella giusta e quindi diciamo sia se siamo rientrati un po nel nell'alveo del del percorso regolare fra l'altro come dicevamo rappresentava l'ultima prova del grand prix per quanto riguarda il grand prix della polisportiva di policiano che avrà il suo esito diciamo finale il 10 di dicembre proprio nella sede della polisportiva di policiano quando verrà premiato il la venticinquesima edizione del grand prix che attualmente vede al comando anzi diciamo le classifiche sono già diciamo inserite nel sito della www.podismo.tv sono già inserite e vedono come protagonista quindi come vincitore dell'edizione del 2016 alessandro annetti della polisportiva di policiano davanti a mirco refi della polistica il campino e leonardo fatichenti della subiano marathon questi sono i tre assoluti maschili mentre in campo femminile ha visto ancora una volta la vittoria di roberta belardinelli davanti alla patrizia lacrimini roberta belardinelli castello di firenze patrizia lacrimini del marathon club città di castello e al terzo posto della lucia boncompagni per quanto riguarda invece la classifica delle varie categorie a questo punto nella categoria a quindi quelli più giovani passa al comando ragazzini giacomo davanti a marco mattini entrambi della polisportiva policiano al terzo posto filippo chiolini quarto posto per alessio casi quinto posto per marco marraghini poi seguire ovviamente tutti gli altri 24 atleti in questa classifica mentre nella categoria b ha visto la vittoria che fino a poi fino all'ultima gara era al terzo posto passata al quarto posto proprio con il scavalcamento di fatichenti passato al primo posto angelo mattoni davanti a federico federici orsini cristiano terzo posto per maggio maurizio entrambi tutti e tre della polisportiva di policiano quarto posto per moreno ghezzi quinto posto per nicola peluzzi ghezzi moreno della presa del campino e nicola peluzzi della subiano marathon nella categoria invece dei veterani anche qui è stata determinante l'ultima prova con il passaggio in testa alla gara per massimo frontani della telega ponticino davanti ad aldo soldini della polisportiva policiano terzo posto per stefano sinatti e polisportiva policiano mattini luigi sempre la polisportiva policiano e al quinto posto è filippo lello della corrido free runner mentre nella categoria di ancora una volta alla sua predominanza lucio floridi della presa del campino davanti agisto forzini della telega ponticino terzo posto per moreno sinatti della polisportiva policiano quarto posto per angelo caruso sempre la polisportiva policiano e al quinto posto biciarini carlo della polisportiva policiano per quanto riguarda invece la categoria degli oro e qui abbiamo diciamo un new entry proprio con l'ultima gara è riuscita a passare al comando silvano sguerri della della terrica sestini davanti a milka ricibin della polisportiva policiano e emilio donza della polisportiva policiano mentre per quanto riguarda il settore femminile nella categoria delle più giovani camilla fontani è passata in testa davanti agenziana cenni entrambi della polisportiva policiano e al terzo posto è erica fabianelli sempre della polisportiva policiano nella categoria delle master ha vinto a questo punto qui togliendo la bellardinella lacrimini ha vinto nicoletta sanarelli della polisportiva il campino davanti a lucia tiberi delle fiorino di firenze terzo posto per laura gianfranceschi sempre della polisportiva policiano quinto posto per katia alcherici della polisportiva policiano per quanto riguarda invece le veterane e qui ha vinto la sassi antonella del fiorino davanti a carmela mascolo della subiano marathon rosalba panichi polisportiva policiano boldi carla di siena e maraghini patrizia della polisportiva policiano quindi questa diciamo sono le classifiche ancora ufficiali ufficiose diciamo così per quanto riguarda provvisori per quanto riguarda questo grand prix 2000 2016 che ha visto veramente tanti partecipanti nelle varie competizioni qui intanto vediamo ritornando un po al trail uno dei tratti più spettacolari più belli diciamo del percorso che quest'anno sono stati inseriti all'interno di questa di questa gara come dicevamo peccato della nebbia perché probabilmente qui fosse stata una giornata di sole sarebbe stato veramente un altro spettacolo però noi continuiamo diciamo dietro anche alla forse alla all'amarezza della gara in questa in questione si era pensato di annullare completamente ma poi rivedendo anche le immagini vedendo anche soprattutto il sostegno da parte anche degli atleti che vi hanno preso parte a proseguire quindi ci indurrà l'anno prossimo a ripetere il trail e probabilmente con accortezze ancora maggiori purtroppo diciamo i vari avvoltoi che sono distribuiti un po in giro per il mondo ogni tanto non sanno cosa fare vengono a disturbare anche le manifestazioni in cui non diamo fastidio a nessuno ma probabilmente sempre a qualcuno diamo fastidio pertanto la la manifestazione verrà comunque sia come dicevamo ripetuta quindi rifatta lo prossimo anno ancora non sappiamo se il periodo sarà sempre novembre probabilmente concomitanza con la saga della pappardella oppure oppure no però ecco sicuramente un apprezzamento è venuto da da tantissimi presenti alla competizione che hanno apprezzato un po anche la nostra buona volontà altri forse in minore percentuale non tanto per questo errore così che si è verificato cercheremo di diciamo di stare molto più attenti anche in questa in questa occasione ecco intanto che l'immagine ovviamente si stanno diffondendo per quanto riguarda questo trail io andrei anche a visionare un po quello che sarà il calendario iniziale del 2000 del 2016 2017 che inizierà con la il grand prix quindi la prossima prova del grand prix che sarà il 26 di dicembre e sarà a terranova bracciolini con la corsa di natale quindi la terza terza edizione della corsa di natale una delle manifestazioni che anticipa un po l'andamento del programma 2000 2017 e quindi vedremo un po quello che accadrà anche in questa circostanza poi sarà il capodanno di corsa con il primo dell'anno sempre san giovanni valdano quindi san giovanni valdano il valdano sarà protagonista nelle la fine dell'anno e l'inizio dell'anno nuovo e poi sarà la volta di policiano quest'anno il 6 gennaio ancora prova per il grand prix di cross oltre ad essere anche prova del grand prix classico nostro e poi andremo ovviamente anche a grassina quindi vicino a bagnaripoli a firenze due giorni dopo la befana campese in l'otto di gennaio sarà quest'anno inserita nel circuito del del grand prix questa gara in cui i propri partecipanti sono venuti al trail e sono rimasti soddisfatti hanno chiesto ovviamente l'inserimento all'interno del circuito del grand prix e questo ci fa estremamente piacere anche per capire che probabilmente la formula è azzeccata ecco andando invece un po sul calendario della federazione che proprio ieri sera ha diciamo definito in occasione della riunione del consiglio regionale e sono definiti un po anche i programmi per quanto riguarda i cross e dobbiamo dire che la gara di corsa campestre sarà il grand prix partirà dall 11 dicembre con la gara di fossone a carrara ci sarà la prima gara delle delle grand prix di cross la seconda gara invece sarà a firenze il 18 di dicembre a castello un'occasione dell'atletica organizzata l'atletica castello intanto che vediamo le immagini bellissime che sono state diffuse da demetrio con motociclista che era davanti alla corsa che vi fa vedere la parte alta di lidignano e qui un altro tratto in discesa che ovviamente vedete era sgombro dalla dalla nebbia quindi ancora più bello ovviamente questo tracciato che probabilmente poteva essere tutto più spettacolare queste sono immagini veramente molto molto carine molto belle che danno un po la panoramica e quindi l'immagine complessiva di questo tracciato che è un tracciato in cui parte da circa 200 metri poi sale fino a 800 e passa metri sul livello del mare che intanto vediamo proprio la moto che sta costeggiando i concorrenti e li sta recuperando piano piano effettivamente diciamo il percorso qui è molto tranquillo molto diciamo anche da un punto anche nonostante diciamo la pioggia dei giorni precedenti che aveva indotto almeno alcuni tratti veramente a superare e a riportare diciamo alcuni tratti in condizioni di praticabilità che c'era veramente l'impossibilità c'era proprio il passaggio di un guado che è stato diciamo proprio completamente asciutto per dare la possibilità di transitare senza grandi problemi da concorrenti qui diamo un'altra bella immagine qui siamo intorno alle cinque vie a diciamo a lignano veramente spettacolare di queste queste luci stupende che entrano nelle piante grande spettacolo che ancora un altro impegno importante un'altra discesa forse che la più la più dirompente qui intanto ecco siamo proprio nelle fasi un po finali della competizione quando stiamo tornando verso la zona di policiano un pochino di radata era nebbia ma ancora ovviamente era lì e qui il sottopasso particolarmente suggestivo dove c'è stato fatto dei lavori particolari il giorno prima proprio per far defluire l'acqua che qui si era stagnata era diventato un laghetto che ne siamo riusciti in pochino a farla scorrere più rapidamente ecco che vediamo proprio nelle fasi conclusive della competizione una degli aspetti diciamo brevi ma tecnici della della gara dove concorrenti comunque potevano transitare regolarmente sia in andata che ne in ritorno ecco dicevamo per quanto riguarda il grand prix poi lo il 6 gennaio saremo a policiano per la terza prova del grand prix e la invece la quarta prova del grand prix sarà a sesto fiorentino per quanto riguarda il neto dove ci sarà la quarta prova e questa esattamente il 14 di gennaio quindi queste sono le quattro prove del grand prix prima di poi iniziare con i campionati società che saranno la prima prova proprio in provincia di arezzo quest'anno sarà a buscine è organizzata la tele cassettini saranno la prima prova del campionato regionale di società di cross in questa giornata 29 di gennaio mentre la seconda prova sarà invece dopo una lotta serratissima fra i vari diciamo partecipanti in cui era anche prevista anche arezzo però è stata decisa per empoli e sarà il 26 di febbraio quindi queste saranno le due gare di circuito che daranno la possibilità di ammettere di essere ammessi poi alla campionato italiano di corsa campestre in programma il 12 di marzo a gubbio quindi ripete ripetuta la sede storica dello scorso anno dove è stato veramente grande spettacolo e dove diciamo si ripetono i campionati società di cross intanto siamo ancora nelle fasi quasi finali della del cross qui ancora una divagazione in mezzo agli olivi abbastanza diciamo provati concorrenti sia per coloro che devono fare questi sono i primi concorrenti della gara della 10 chilometri alcuni dei quali ovviamente si sono ecco che vediamo intanto tonnelli transitare in mezzo agli olivi e qui vediamo l'arrivo di fabio guidelli ovviamente qui sono state un pochino di di problematiche che fabio guidelli è arrivato è arrivato al traguardo ma in posizione al sesto posto ovviamente era nella testa della corsa ma è successo come dicevamo questo problema anche se poi è rimasto soddisfatto poi fatichenti subito dietro mentre per la cronaca diciamo da un punto di vista proprio cronologico ha vinto stefano carlini della polisportiva chianciano davanti a maledizio maggio della polisportiva polisciano marco mattini alessandro magliozzi alessio fioravanti fabio guidelli fatichenti leonardo filippo occhiolini vedete anche lui al traguardo poi alessandro annetti e refi mirco per quanto riguarda il i primi 10 previsti per quanto per quanto concerne la competizione maschile ecco dicevamo intanto per quanto riguarda il cross dove sarà sede di cross anche policiano e quindi in un tratto di quello che vediamo adesso sarà la parte diciamo una parte importante abbiamo visto lo scorso anno 6 gennaio quest'anno avverrà di venerdì diciamo la gara di di policiano quindi il 6 gennaio sarà una giornata anche questa l'insegna delle gare del settore giovanile e poi del settore assoluto e amatori sarà sempre il solito tracciato queste varianti che ci saranno proprio tra la sede storica della polisportiva policiano e poi i vari terreni limitrofi che saranno utilizzati per questa competizione che ormai abbastanza diciamo diffusa e soprattutto anche apprezzata per quanto riguarda questi andamenti diciamo di piccoli saliscendi che però mettono nella prova e soprattutto danno la possibilità di spingere fortemente tanto abbiamo visto anche belardinelli davanti agenziana cenni che arrivano al traguardo e poi stefano sinatti che subito dietro anche lì c'è stato diciamo un recupero da un punto di vista proprio anche del percorso in cui stefano riusciva a conoscere molto bene e quindi a dare la possibilità un po a tutti anche di recuperare quelle quell'errore che era stato diciamo fatto dopo circa direi 3 4 chilometri dalla partenza e quindi diamo anche angori poi altri che si susseguono nella zona del traguardo dicevamo tornando sempre un po al discorso del della federazione che si è riunita ieri e quindi ci saranno grandi grosse novità anche per quanto riguarda il 2017 per quanto riguarda le corse su strada e soprattutto il rapporto tra le federazioni gli enti di promozione sportiva ricordando che sarà una clausola molto importante quella delle mezze maratone le maratone e le gare di 10 chilometri in cui la federazione avrà un po la prerogativa principale di acquisire la partecipazione degli atleti quindi diciamo gli atleti degli enti di promozione sportiva dovranno per forza di cose o essere tesserati fidel oppure essere in possesso di tessera card quindi la run card e che potrà essere utilizzata con una piccola aggiunta di soldi insieme al tesseramento dell'ente di promozione sportiva prestabilita intanto vediamo verini e rossi giungere al traguardo ecco dicevamo questa nuova formula che per certi avversi è stata per certi versi è stata utilizzata in occasione della margine città d'arezzo in cui gli enti di promozione sportiva sono hanno potuto gareggiare grazie alla run card che hanno messo a disposizione in modo gratuito la federazione per dal 2017 questo gratuitamente non avverrà quindi saranno costretti molti atleti a fare diversamente e qui intanto siamo passati invece al settore giovanile un settore giovanile non particolarmente numeroso ma direi particolarmente agguerrito sono stati diciamo centinaia di ragazzini che hanno preso parte alla competizione e direi anche più sommato con spettacolarità e qui abbiamo visto beccatini asia della teleca futura che ha vinto nel settore femminile quelli più piccoli 2011 e seguenti e poi a seguire un po tutti i vari concorrenti qui l'entusiasmo anche da parte delle dei genitori presenti degli allenatori che hanno portato questi ragazzini a fare una una gara particolarmente spettacolare qui siamo ancora invece per quanto riguarda al settore femminile casarini anna tra ricca futura che ecco dovevano fare questo tracciato che intorno alla sede della polisportiva vedete che battaglia che esisteva fra i vari concorrenti fra l'altro entusiasmo e soprattutto agonismo al secondo posto sarà giorni della polisportiva di san sepolcro poterzo per alessia falchi poi giorgia calderini questi sono un po le le atlete che hanno preso parte in campo maschile invece ha vinto calderini nicola per quanto riguarda quelli più piccoli davanti a manier chiama sarà lorenzo dell'abis di foiano poi terzo posto ferrandi giovanni cari leonardo ancora per quanto riguarda canosci leonardo dell'avis san sepolcro eccolo dovrebbe essere lui canosci davanti a castellucci elia poi al terzo posto è pietro finocchi della trecala sentino poppi quarto posto per biagini tommaso dell'assenza di san sepolcro quinto posto per volpi gregorio della polisportiva di policiano qui intanto vediamo altri agguerriti concorrenti qui siamo nella categoria superiore in cui ha vinto martini filippo dovrebbe essere lui dell'avisi del san sepolcro esatto corre anche molto bene questo ragazzino davanti poi aghezzi alessio ecco qui della politica al campino terzo posto per martini alessio del gregge ribelle di siena quarto posto per boni elia della dell'avis san sepolcro quinto posto per gregorio riccardo in campo femminile ha vinto giorni davide scusate ha vinto casarini anna della sega futura davanti a giorni sarà e falchi alessia ecco intanto vediamo anche l'arrivo di marco gavagni eccolo qui questo atleta bravissimo che ha completato la sua competizione poi qui è stata la volta invece del settore femminile e qui avevamo la già da cicerone della polisportiva di policiano un atleta che ancora giovanissima ma che ha una a una corsa veramente stupenda sta andando molto forte dalle gare di velocità fino alle gare mezzo fondo effettivamente a pochi avversari davanti a lei dietro lei c'è la emilia mugnai della rega futura terzo posto per clarissa pacini quarto per vanessa baldì quinto posto per caterina macarli in campo maschile invece che chiarini leonardo dell'avis san sepolcro anche qui lotta serrata fra questi concorrenti ha vinto davanti a samele e samuel samuel della atletica futura in lotta proprio serratissima terzo posto per per cagnacci matteo burkini michael fa cara mohamed mentre poi nella gara successiva ha vinto vignoli ilaria ora vedremo anche chi ecco l'arrivo del settore femminili femminile dicevamo comunque complessivamente è stata una gara molto molto spettacolare anche da un punto di vista proprio delle della presenza dei ragazzini nell'altra categoria con che vignoli ilaria dell'atletica lentina vinto davanti a fiorini sofia antonelli valentina pasqui giulia e pasqui lidia in campo maschile pugliesi vincenzo dell'atletica lentino ha vinto davanti a bal di leonardo cipriani federico poi ancora e messina vincenzo ristori diretta vinto invece la categoria dei cadetti davanti a benedetti maria fiore della rinascita montevarchi terzo posto dell'innanzi emma che cacci alessandra polisportiva chianciano e fedi silvia sempre la polisportiva chianciano le ultime due categorie è stata vinta dal settore maschile per quanto riguarda massimiliano bracciali della chianina davanti a ambarec mohamed chianciano del bimbo filippo regalentino cipriani federico ilmi iaia e ghelli marco qui siamo un po le fasi finali della competizione ricordiamo che la nostra trasmissione alve viene sempre disputata viene sempre fatta vedere ogni 15 giorni quindi è una rubrica quindicinale che facciamo sempre intorno alle 30 minuti prossima trasmissione sarà diciamo impegnata un po sui sui cross per quanto riguarda anche le fasi distrittuali di corsa campestre delle scuole e poi della presentazione del grand prix 2000 2017 con le premiazioni invece del grand prix attuale intanto vediamo proprio le fasi conclusive anche di questa di questa gara che dicevamo complessivamente risultata una gara tutto sommato valida nonostante il problema del mattino in cui ha privilegiato un po diciamo l'ignoranza da parte di alcune di alcune persone però la possibilità di ripetere è stata una giornata di sport e anche di cucina quindi la possibilità poi all'interno della nostra società di poter poi degustare le pietanze particolarmente gustose che i nostri cuochi sono riusciti a dare un po a tutti i partecipanti ecco per quanto riguarda anche il grand prix giovanile la vittoria è andata ai due fratelli volpi per quanto riguarda volpi gregorio volpi jacopo che hanno vinto davanti a baldi al terzo posto mentre in capo femminile la vittoria è andata alla alle due atlete della politica il campino baldi e falchi bene qui siamo proprio alle fasi conclusive ovviamente una l'appuntamento è alla prossima trasmissione quella che avverrà fra 15 giorni in cui vi faremo vedere altre cose